14 catamarani per 28 piloti e oltre 600 cavalli di potenza. E' il campionato mondiale X-Cat Offshore che dal 23 al 25 maggio sbarca a Napoli. Sarà infatti lo splendido golfo partenopeo a ospitare le gare organizzate dal World Professional Powerboarding Association di Dubai, sotto legida della WIM, la Unione Internazionale Motonatik. Ma la tre giorni partenopeo non sarà solo mare e barche. A fare da cornice all'evento saranno una serie di iniziative collaterali che coinvolgeranno il pubblico per tutta la durata della tappa del campionato. Ci saranno spettacoli di paracadutismo acrobatico con il team Skydive Dubai, esibizioni di flyboard, concorsi a premi per i bambini e ospitalità per tutti sulle rive del campo. Il momento clou senza dubbio sarà però la sfida finale di domenica con la prima azione e la presenza annunciata di Diego Armando Maradona, che ha già detto di voler essere presente alla cerimonia. Come spiegano Francesco Corbello, responsabile dell'organizzazione, e Monia Liberti, assessore all'immagine del Comune di Napoli. Questo è il mondiale di offshore più bello e più appassionante che c'è. Si tratta di, vedremo sfrecciare, 13 catamarani nel Golfo di Napoli in questi tre giorni. Oggi iniziamo con le prove, domani ci saranno le qualifiche e una corsa testa a testa tra le diverse imbarcazioni e domenica invece avremo il Grand Prix e la gara finale. Sono anche eventi che danno la possibilità di consolidare quelli che sono i processi di internazionalizzazione, perché ovviamente vanno a favorire quelle politiche di interscambio, di cooperazione, che sono, ritengo, assolutamente fondamentali. Grazie a tutti.